ciao oggi ti dimostrerò che il 17 non è per niente un numero sfortunato ma anzi tieni a mente questo numero ed ascolta cosa ho da dirti siamo a rocca san giovanni località san giacomo a soli otto minuti dal mare e voglio proporti un terreno edificabile dalle grandissime potenzialità ma ad un prezzo piccolissimo prima di descrivertelo però voglio dirti che se cerchi il classico treno in città da uscire a piedi in centro questo non fa il tuo caso la soluzione che sto per proporti è rivolta a chi vuole uscire dal caos della città a chi cerca la pace ma soprattutto a chi vuole riassaporare gli antichi profumi delle nostre campagne abruzzesi conditi da una piacevole brezza marina che la vicina costa dei trabocchi sa regalarci parliamo di un lotto di 3.000 metri quadri di cui 2.700 edificabili a destinazione residenziale il sito è totalmente pianeggiante ed ha una forma prevalentemente quadrata la parte frontale confina per oltre 50 metri con la strada comunale pertanto è ben servito dalle utenze di luce acqua gas metano e rete fognaria l'indice di edificabilità stabilito dall'attuale piano regolatore e di 0 25 metro quadro su metro quadro quindi potrai realizzare un fabbricato di oltre 600 metri quadri sono tanti vero infatti la caratteristica principale di questo sito è la versatilità sì perché avendo a disposizione tutta questa superficie potrai scegliere di realizzare una grande villa per la rosa una graziosa casetta con giardino e piscina o addirittura ottimizzare al massimo la cubatura offerta e costruire ben tre ville singole magari acquistando il terreno assieme a un tuo familiare o un tuo amico tutto ciò il vero punto forte di questa soluzione è il prezzo ricordi il numero 17 di cui ti parlavo prima bene questo terreno potrà essere il duo a soli 17 euro al metro quadro si è capito bene 17 euro al metro quadro sono sicuro che in zona non ne troverai un altro ad un prezzo inferiore ti sembra sfortuna questa chiamami ciao